Fuori cassa, manca un piano integrato nei trasporti, manca un piano integrato nei trasporti, così si continua a urinare. Nessuna peruga ai disabili, nessuna peruga ai residenti, la città è assolutamente impazzarata con un piano traffico che non esiste. Noi vogliamo il tram, ma devono essere anche la piagna a contribuire, non può gravare solo sempre tutto sul valore vitali, sui cittadini unesti.